Pure questa la chiudiamo subito perché tanto diremo tutti e due Super Lecce In realtà dipende, all'ottantesimo ci arriviamo E poi è quello, è il minuto Perché poi dall'ottantesimo in poi Ma succede tutto Ma guarda che forse pure all'ottantacinquesimo In realtà poi nel novantesimo, basta il Paoletti al novantesimo in poi Bravo, ma c'è piccoli dall'altra parte Occhio, ma questa è la partita del recupero Dato gli venti minuti del recupero Giochiamo Ci dicono dalla regia pareggio Amici Sportivi Ciao a tutti amici sportivi e bentornati nel Tempio dello Sport Io sono Niccolò Cecchi e qui al mio fianco c'è Andrea Di Berardino Come stai? Todo bien Todo bien, meno male, tutto a posto, grazie Si avvicina il weekend e noi torniamo con 1x2 Che è un po' che non ci giochiamo Si avvicina l'epifania Si è vero, anche Tutte le feste porta via Inizia la sessione quella vera Inizia la puntata con questo non so che di nostalgia Eh, si Vabbè, allora ricordiamo ai nostri amici sportivi di seguirci sui social Instagram, TikTok, iscriversi al canale YouTube E se volete ci ascoltate anche su Spotify Yes Oggi tutta serea abbiamo visto Abbiamo, facciamo Delle bellissime magliette Belle magliette, sì Andoria è Palermo A Palermo La maglietta del Palermo Iniziamo a Iniziamo e ricordiamo il gioco Vabbè, ormai penso che era Vabbè, dai, lo sappiamo Noi diciamo Quello è diciamo L'altro, giocate E poi Non basatevi sui nostri pronostici Perché tanto Noi lo facciamo per divertimento Lo mettiamo per il marcatore? No Ogni tanto È troppo complicato Ogni tanto ci lo mettiamo per il marcatore Partiamo? Vai Primi due minuti partiti Bologna-Genova L'anticipo Venerdì 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 Che sogna la Champions Bologna che gioca per la Champions Anche se l'ultima partita Ah 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 Stupido Entra il Genoa Che Che Ha pareggiato l'Inter Sì Però è un po' spento il Genoa In questa stagione Anche che il Drago Si in occhio Il Tottenham me lo vuole No no Secondo me non se ne va Non se ne va Però si che portano i soldi belli I soldi veri Quelli da la Premier arrivano Quelli da la Premier Boh non lo so Gliela è un pezzo importante Se levi Dragosin Certo il Bologna Beh ne ha persa una Però ci può stare Vabbè ma ragazzi Deva vincere tutte Ma ci mancherebbe altro Ma è più normale che perde Che vince Da quella scossa Ma è vero Erano troppo gasati Invece che servita per Sì Beh contro il Genoa Io vedo il Bologna Molto favorito Dico la verità Sì Onestamente Non è una partita Che può Ah per quello Che ci ha fatto vedere In questo In quest'arco di stagione Insomma Sì Più che altro Poi giocheranno tutti Tutti i titolari Quindi Non mi sembra Abbiano infortuni No Non sembra No vabbè Leggevo che stanno cercando Un Vicer Ziggs Perché giustamente Non le può fare tutte Eh esatto Però Dovrebbe essere Abbastanza alla portata Dai sì Secondo me il Bologna Dopo il 3-0 L'Utilese Ma sono un attimo Sì 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 Quella scossa Dice Torniamo a lottare Per la Champions Dai Quest'anno che stiamo là Non facciamoci Dai dai Andiamo col Bologna Sì 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 Mettiamo Mettiamo la vittoria E' un marcatore di Fabian Sì Così E non gioca manco però Però Che sta Entra Allora Seconda partita Inter-Verona Già chiudiamo? Eh sì dai Facciamo Due Incredibile Verona San Siro Inter ragazzi Inter Inter Quello nuovo Canadese Sì No non credo Non credo manco che Lautaro Torna Lautaro E segna Lautaro No no Non so se torna Però Non dovrebbe Stare fuori tanto Come sa Lautaro Vabbè che al massimo Arnauto Dice Turam Sì Giocano gli ultimi due Gol di Arnauto No è di Turam Di Turam È un pochino Che non segna Sì Dici tanto così Visto che già Ne ha segnati pochi Un tiro da fuori L'Inter deve vincere Comunque Perché Ma lo sai L'ex Di Marco Non era del Sì L'ex Fuori gol Potrebbe segnare Di Marco La legge Del ex Risulta così Bel giocatore Marco Mamma mia Bah Chi Chi lo sa Comunque Anche tipo Il miglior Scommettitore Del mondo Direbbe Inter Anche che Penso che Manco sia Quanto sarà Accordato L'Inter 1-0-7 1-0-7 Il Verona Comunque L'abbiamo Sempre Veramente Prima o poi Qualcuno del Verona Ci darà sotto i commenti Non abbiamo mai Speso una parola Positiva Prima o poi Me lo aspetto Un veronese Sotto casa E mi favo Comunque Te Favo Siero Però effettivamente È difficile Trovare qualcos'è Di posto Verona Capito Che poi in realtà Il momento è salvo Il Verona Al momento è fuori Dopo la prossima giornata No Però Vabbè Andiamo con l'Inter Ma che ci importa Manca dovrebbe poter dirti Qua perché L'Inter pure è un punto interrogativo Ma l'Inter Potrebbero segnare tutti Capito È quello il discorso Cioè tutti e nessuno Anche un mikitarian Che è un po' anche lui Che non trova la via del gol Poi Frosinone Monza Bellissima E siamo partiti Perché poi stanno Stanno più o meno là È un punto Un punto Dimmelo tu A quanto stanno 19 Poi ti vedo Occhio ai lenti 22 e 19 Monza l'ultimo pareggio Al Maradona Monza pareggia tanto Mi sembra Oh Monza Cosa è il pareggio Eh non lo so Comunque i punti ce li ha Cioè Comunque Monza Sempre Il solito discorso Cioè Monza Era una squadra Che fino a 5 anni fa Giocava Serie C Serie D Serie C sì Adesso sta lì E comunque non sta Mono gliela vogliamo tirare Però non sta in situazione Di Guardate posso dire Tra tutte queste Dal Genoa in giù Cioè secondo me Rischiano la retrocessione Da qui alla fine Dal Genoa in giù Sì il Monza Per me il Monza Se fa il campionato suo Tranquillo Senza strafare Alla Quart'ultima E salvo Capito C'è una posizione La sua Sì 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 Ma senza proprio Nulla chiedere Poi il prossimo passo Magari sarà più avanti Cercare di fare qualcosa In più Ma solo il palladino Se ne va Non fino a stagione Potrebbe essere Potrebbe essere Beh bisognerebbe Anche se dove vedrei Sua Fiorentina Panchina da Fiorentina Se ne va Sì Se l'italiano se ne andrà Secondo me Detto E invece vabbè Frosinone però Non possiamo No non possiamo Sottovalutare il frosinone Assolutamente Anche perché gioca in casa E in casa Occhio Che è sempre È sempre insidioso Insidioso Io ti direi Un bel pareggio Qua poi la sfida da pareggio Poi mi sembra Sia pure alle 15 Questa pareggio Vero Siamo d'accordo D'accordissimo Vai Mandiamo il pareggio Allora su Oggi molto facile Sì Tutto lescio Come se poi ne prendessimo Mezza di queste qua Capito Lecce Cagliari Lecce Cagliari Via del mare Vabbè pure questa Chiudiamo subito Perché tanto Diremo tutti e due Super lecce Super lecce In realtà dipende All'ottantesimo E ci arriviamo E poi È quello È il minuto Perché poi dall'ottantesimo In poi succede tutto Ma guarda che forse Pure all'ottantacinquesimo È in realtà poi Nel novantesimo Basta il Paoletti Dal novantesimo in poi Bravo Ma c'è piccoli Dall'altra parte Occhio Ma questa è la partita Del recupero Dato gli venti minuti Del recupero Giochiamo Ci dicono Dalla regia Pareggio Ma vabbè Io direi Di far giocare Veramente però Solo gli ultimi Cinque minuti Di questa partita Perché Apertissima Negli ultimi Cinque minuti Abbiamo una partita Che negli 85 minuti È pareggio Sì E poi può succedere Di tutto Poi può succedere Di tutto Perché secondo me Poi è una vittoria Del Cagliari Sì Ti dico Io però Personalmente Vedo un po' più favorito Il Lecce Anche perché Il Lecce In realtà Noi ti ricordi Quando siamo partiti Di Super Lecce Sì Poi è un po' Una montata In cui avevamo intitolato Il Super Lecce Sì Avevamo dato pure Beh era partito Beh guarda Stava in Champions Tipo dopo i tre partiti Del Lecce Già adesso Poi è un po' calato Però ci sta Capito Cioè comunque Certo Per il Christovic Potrebbe tornare La golla Sì Però tu ad oggi Avresti detto Che Lecce aveva 20 punti in classifica No Per quanto riguarda Lecce e Cagliari Si forse è un pareggio È la scelta più equilibrata Adesso dico Un pareggio Però per sbilanciarmi Vado E io vado in contro Contro Vado col Cagliari Io direi Per sbilanciarmi Lecce Quindi Trovando è Pareggio Secondo me No Dai Fiamo pareggio Cioè non è Non ha uno Allora Diciamo pareggio Però gli ultimi Cinque minuti Può finire In qualsiasi modo Anarchia totale Vai Meno male Tipo i primi 31 di 3 a 2 Sassuolo Fiorentina Sassuolo Fiorentina Che partidaccia Questa E poi l'ultima Il Torino Non era facile per niente Ha vinto Al momento Fiorentina quarta Quarta Quindi Se parla tanto De Bologna Però Fiorentina Sta lì Certo che ha visto Tra Tra la prima E la quarta Cioè ha 12 punti Differenze Mamma mia Mentre il Sassuolo Occhio al Sassuolo Che Sassuolo rischia Sassuolo rischia Sassuolo rischia Quanto dico Fiorentina Però Il Sassuolo Sono quelle partite Che fa Cioè magari Il Sassuolo Ti incontra il Verone E perde Ti incontra il Cagliari E perde Incontra Fiorentina Milan-Juve Fa la partita Sì 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 Dell'anno Anche Non so se hai visto Il tiro del Berardi A un certo punto Una traversa Preso col Milan Stravidoso Ma non ha fatto gol Eh infatti Ma No che ti volevo dire Quanti anni so Che il Sassuolo Sta in Serie A Pure il Sassuolo È un altro tipo Monza Se pensi Sì In realtà è un po' più Piccolo Cioè non c'è i tifosi Cioè no Non c'è i tifosi Però Vabbè se pensi Gioca a Ferrara Sì No a Reggio Emilia A Reggio Emilia A Reggio Emilia E comunque Sassuolo Che è un paesino E sta là vicino Quante persone so Ma che saranno 50.000 Non lo so No È esagerato Sì Di meno Penso eh Quante so 10.000 Eh ma ce l'ho C'è ricerche interessanti Quante persone vivono a Sassuolo Beh 20.000 Le farà 40 40.000 Eh dai Manca un quartiere di Roma Se no Il palazzo Eh Una via Alla te dici Vittoria Fiorentina Perché gioca a me Ancora senza Nico González Non vorrei Per chi se l'ha fatto male Non so se torna È vero La Fiorentina quest'anno È Solita Anche Però Alla te dico Vittoria Fiorentina Però non partita scontata Perché il Sassuolo Di solito Se partite Se casa Hanno tutti e due Bisogno di punti Cioè è vero Che la Fiorentina Sta tranquilla Però per rimanere In quel vortice Là Che comunque Sta là Giochiamo A questo punto E due minuti Sono passati Eh dai su Andiamo con la Fiorentina Stiamo andando Anche che è un'altra pareggia Sennò è una giornata No È un'altra pareggia Poi abbiamo Empoli Milan È l'Empoli Occhio eh Insomma Occhio che Oddio mi sfugge il nome Dello stadio bellissimo Bellissimo Stato dell'Empoli Non mi ricordo Oddio Vabbè Perché è particolare Che la curva Sta in tribuna Mi porta Il Castellani Il Castellani Il Castellani Però vabbè Il Milan dopo la vittoria In Coppa Italia Ha la strada spianata Il Castellani Ok Ma lo sai che Cioè questa è un po' Una partitaccia Un po' brutta Ciccio Caputo Ciccio Caputo Ha firma 3-1 per il Milan 3-1 per il Milan Un gol di Ciccio Gol di Ciccio E gol Per il Milan Chi potrebbe segnare Un leao Che ne abbiamo parlato Però ha segnato In Coppa Italia Un girù Un girù è da tempo Che forse gira Magari con Hai fatto il gioco di parole Si è girato un girù Con un rigore Un bel calcio di rigore Giocate per il calcio di rigore Non succede mai Per una volta 3-1 Calcio di rigore Il gioco è gol di Ciccio Mi sento male Chiudiamo il podcast Vogliamo le scuse Vai dai Andiamo con la vittoria Col Milan Che qua mi sembra Abbastanza scontato Anche per Per provare A riagganciarsi Lì davanti Scontata Dopo di che Ci abbiamo Torino Napoli Aiaiaiaiaiaiaiaia Mazzarro Ne farà Che st'altra vittoria Napoli Quant'è che non vince? Da quando hanno insonerato Garzia e calla e ogni puntata se non noi siamo Garzia non no all'Atalanta no dice addirittura all'Atalanta forse con il Sassuolo ah no col Cagliari col Cagliari col Cagliari poi due brutte sconfitte Roma pareggio con il Monza pareggio eh vabbè volevo di brutta sconfitta con la Roma pareggio con il Monza usciti in Coppa Italia il Napoli periodo nero però con il Torino comunque lo stadio olimpico di Torino una volta si chiamava così non si è cambiato nome Filadelfia ma quello è dell'allenamento ah ok lo stadio olimpico di Torino non so vabbè si è cambiato nome comunque sia non è da sottovalutare Zapatone ma poi guarda il Torino sta a 24 nel caso in cui vincesse andrebbe a 27 che vuol dire cioè che intanto vai a meno uno da Napoli fondamentalmente poi qua non si capisce bene certo è pure vero che sta un po' stravolgendo la squadra del Lorenzo vuole stravolgere però chi perde ma il Napoli perde Osimene per la Coppa d'Africa e anche chissà tocca vedere se giocherà Samaric se poi l'affare dovrebbe essere concluso per quando esce la puntata sì ma Mazzocchi tu non fai giocare di Lorenzo e Mazzocchi no eh è una partita io non mi sbilancio con la vittoria del Napoli capito qual è però è un problema questo perché c'è tu dici che i campioni d'Italia non vincono a Torino però non hanno vinto ancora il Monza in casa eh lo so hanno vinto cioè neanche io sono così fiducioso nei mezzi del Napoli contro il Torino sinceramente io qua ti dico un pareggio un pareggio però in realtà è una partita che potrebbe avere veramente tanti risultati diversi però sì forse il pareggio o se non una vittoria del Torino così sì sì pure sono passati due minuti dai andiamo col pareggio ma andiamo col pareggio ma attenzione questa è una partita secondo me più difficile qua mi giocherai tipo il Jolly se giochiamo il Jolly l'aiuto da casa Udinese-Lazio Udinese-Lazio o l'Udinese che viene da da una bella vittoria che serviva per risollevare il morale e soprattutto ora si è diciamo sganciato è vero che ci potrebbe tornare in zona retrocessione però per il momento si è sganciato appunto dalle ultime tre posizioni si è anche un pochino risollevato e il cambio allenatore questo cosa ha fatto bene vabbè sì ogni tanto c'è stava no però non è detto che faccia bene capito Alazio ha vinto l'infrocinone Alazio fatica a decollare sta stagione certo Castellianos però ha fatto un bacco con l'infrocinone sì 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 e in teoria ha fatto male immobile e Luiz Alberto ora tocca vedere Alazio come si muove sul mercato è pure questo perché ce n'ha dei pezzi mancanti sì vabbè poi lì tornerebbe tutto il discorso e credo che lì ci ha fatto lo dito anche per l'altro eh lo so lo so però vabbè io Alazio la vedo favorita c'è un poco è una partita che potrebbe essere riservare un inganno però l'Udinese ha vinto la scorsa molte squadre di quelle diciamo che di solito sono favorite stanno arrivando fuori casa e di solito c'è sempre la squadra in casa vince però non sempre vincono tutte fuori casa però l'Udinese viene comunque dalla vittoria oltre al zero col Bologna troppa fiducia diciamo questa partita allora questa dico Alazio però secondo me però è un pareggio sai la partita che è la Lazio magari quella che non ti aspetti sì 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 io credo vinca però non lo diamo per scontato vabbè come poi qualsiasi cosa però dai andiamo con la Lazio e pure questa l'abbiamo completata e poi Salernitana Juve 0-1 ma perché 0-1 chiusa ma perché non scherzetto da Salernitana che ha vinto l'ultima l'ha vinta guarda che la Salernitana ha anche uno in Milan gli aveva fatto quasi un scherzetto poi pareggio quindi non è che si è andata lontano beh la Juve è una squadra più forte psicologicamente del Milan però il fatto della Juve è che non subisce gol è difficile fargli gol e non penso che alla Reghi no potrebbe giocare un fattore importante l'ambiente intorno però lo sai che c'ha che la Juve preferisce quasi far giocare l'altra squadra però quando giochi con la Salernitana che fai giocare con la Salernitana no sarà una partita un po' statica un po' spenta in cui si la Juve magari farà il suo gol nel primo tempo poi poi gestisce poi gestisce però il vantaggio senza troppa fatica poi tra l'altro quindi cioè io non ci avrei tanti dubbi su sta partita sinceramente si guardate vittoria della Juve certo abbiamo dato tanti italiani di squadra e non sta rivedendo vabbè tanto come sempre il nostro no così anche Juve e Inter continuano il loro cammino verso lo scudetto e via dicendo e quindi vittoria della Juve comunque partite un po' cioè non bellissime poi magari ci riserveranno sorprese però fino ad ora non so queste grandi partite che dici cioè io quasi quasi sono più interessato a Frosino e Monza e Lecce e Cagliari rispetto a quelli che abbiamo nominato finora sì e poi c'è l'ultima Roma-Atalanta Roma-Atalanta questa potrebbe essere una bella partita anche perché gli ultimi anni facciamo partire ah è vero sì gli ultimi anni Roma-Atalanta è sempre stata pochi gol 0-1 cioè non mai perché mi ricordo l'anno scorso 0-1 1-0 partite non tiratissime l'Atalanta quest'anno perde i scontri diretti eh perde vediamo se la Roma ha vinto con il Napoli lo sai che secondo me se cavalca l'onda dell'entusiasmo potrebbe vincere la Roma in casa contro l'Atalanta anche che poi c'hai il Milan quindi magari c'è la Divicon sì e se tu poi consideri le tre partite Napoli-Atalanta-Milan se tu riesci a portarti a casa in quest'arco 6 punti secondo me hai fatto un buon risultato è uno scontro diretto quello con l'Atalanta perché è uno scontro diretto anche per i problemi della Roma in quest'anno è fuori casa sì quindi sì certo dall'altra parte hai una formazione un pochino imprevedibile come da sempre è imprevedibile l'Atalanta che te ne può fare 4 e può subirne 4 allo stesso tempo quindi dipende dalla giornata eh sì è mazza che cioè quasi che dipende più dall'Atalanta che dall'altra squadra al destino della partita adesso ti direi un pareggio non ce ne abbiamo messi tanti lo sai poche vittorie in casa non abbiamo messo solo due solo l'Inter e Bologna la sopra e Bologna la prima dove sta? ah sì 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 ma io andrei più orientato sulla Roma dai dai no in casa fattore olimpico cioè potrebbe un stadio sold out come sempre potrebbe dai potrebbe no perché altro guarda che a livello anche psicologico farebbe bene vincere due partite di seguito con Napoli e Atalanta sì ti potrebbe dare una grande spinta per dopo anche perché dopo il messaggio di Mourinho siamo solo noi capito potrebbe aver caricato ancora di più i giocatori dai mettiamo perfetto abbiamo chiuso quindi abbiamo chiuso facciamo il recap vai inizi idee vai Bologna Genoa vittoria del Bologna Inter Verona vince l'Inter bellissimo pareggio tra Frosinone e Monza Lecce e Cagliari pareggiano anche loro la Fiorentina vince a Sassuolo Empoli Milan i rossoneri sbancano il Castellani Torino Napoli emozioni ma a Parigi Udinese Lazio vince la Lazio L'Erinitana Juve Orto Muso a Juve va sul sicuro vantaggio mantiniamo il vantaggio Roma Atalanta la partita più bella della diciannovesima giornata sarà una partita un po' combattuta un po' un po' no il commento tecnico e noi ci sbilanciamo a favore dei giallorossi mi sembra abbiamo detto tutto mi sembra equo vedremo come andrà allora ringraziamo la regia come sempre ricordiamo di seguirci su tutti i social instagram e tiktok iscrivetevi al canale youtube e se volete ci ascoltate anche su spotify appuntamento torna prossima settimana con Olin e vabbè mandiamo la sigla mai ciao amici sportivi amici sportivi amici sportivi